Per me No! Intanto io cambio, non sono più come prima. Basta. 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 Basta Basta! Basta! Sono giù. Non ti dai, ti vedi, era prima, basta. Va bene. Che vuol dire cambio non sono più come prima. Nel senso perché a parte se già vedo che sei così sciolta, che cosa fa tra dieci giorni? Se fa i massaggi sulla schiena? Allora scusami il fatto che ci siamo detti che i nostri corpi sono nostri e non ci possiamo far toccare dagli altri e non ci fa piacere, io gli avevo detto, io l'ho fatto capire le ragazze, le ragazze si hanno lanza a toccare il mio corpo, non dovevamo essere uguali, non dovevamo dimostrare a tutto il mondo quanto ci rispettiamo? Lo so che magari per loro non è niente, però comunque quello che sta facendo adesso non sta rispettando la mia gelosia che è comunque troppa, però se vuoi che divento meno geloso devo vedere che ti comporti bene e mi rispetti, non dovevi che ti metti a cavalcioni su uno e te ci aggrappi con le gambe, lo sai quanto sono malato?